La scuola non può essere ricordata solo per essere la sede della sezione elettorale. Si chiude con questa mala constatazione la nota del coordinamento dei presidenti dei consigli d'Istituto Sardegna che interviene sulle imminenti elezioni politiche del 25 settembre e sullo scarso peso che il tema scuola sta avendo nel dibattito elettorale. In questo periodo tutte le forze politiche si affannano per trovare gli accordi, per tentare di racimolare quanti più voti possibili per governare l'Italia per i prossimi cinque anni. Dai programmi elettorali, da qualunque gruppo, partito, movimento o coalizione sembra però scomparsa la parola scuola, si legge nella nota. Tutte le promesse sventolate negli ultimi due anni, forse dovute alla pandemia magicamente sono passate in ultimo piano per dare risalto a tanti argomenti che attanagliano l'Italia dalla notte dei tempi e che catturano l'attenzione dell'opinione pubblica perché parlano alla pancia della gente. Forse la parola scuola non porta voti, non interessa più investire nel futuro, non interessa il destino di migliaia di studenti o sapere che la prossima generazione di governanti può arrivare da molti di questi giovani. Forse non interessa perché centinaia di migliaia di studenti non hanno ancora l'età per esprimere il loro voto. Ed è moralizzante assistere ad una spasmodica ricerca di voti senza essere lungimiranti ed agire per garantire il futuro dell'intera nazione, conclude la nota del coordinamento Presidenti dei Consigli d'Istituto a Sardegna. Grazie. Grazie.